ha detto che questa non la vuole perché l'ha già usata il mago cargamella non la vuole perché l'ha provata prima ma faccio fatica anch'io accendela questa qua è abitudine è proprio totalmente diversa è tuo è tuo è tuo se l'hai già giocato quando la prova tre volte perché l'ha già comprata questa non la vuole però è l'ha usata il mago cargamella non la vuole l'ha usata lui basta è andato è andato piano è di qua appoggia il primo e dopo lasciala correre dai 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 su bene allungala secondo me passa a fianco al sasso non so se ti dà se no vieni su da qua bravo giù bene e perché noi siamo abituati con la nostra che è più morbida l'ora che prende invece questa ti prende subito ma vai no l'ha già provata ti stanca mia come Montesa mica ti stanca come Montesa ma noi riusciamo per stancarci mica per fare la moto noi riusciamo per stancarci mica per andare in moto anche Montesa va a farlo andare va 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 andare tutte vanno ma sono tutte questa qua la vede sai cosa c'è? è il peso ma lo so le moto sono quello che ti voglio dire è il peso ma è il livello che sono dopo un po' colorano lo senti quando vuole ti sposti la portiere Montesa quando vuole lo sposti non si muove oggi sono tutte così oggi no perché dopo un po' quando sei stanco lo senti però ti aiuta meno perché anche nelle cose anche nelle cavalcate arrivi in fondo e sei cotto chi lo compra? chi la compra? no io no io ce l'avevo ma io ne avevo due eh ho fatto già morto si? cioè uno che è un pazzo che si mette qua lo motore quattro tempi che è un'unica tu guarda tu prendi i migliori ingegneri della formula io lo fai fare mi nascosto mi dici che l'hai fatto in te ma la cosa è una merda perché è un'unica tu prendi onda gli metti in piscola la porta qua è sempre meglio di quella che hai fatto in te ma perché onda non la tocca a destino oh Onda Necros 5 anni fa entravano in pista spiellavano passavano fuori in pista quindi è stata la morta più venuta ugualmente con l'anno quindi lì 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 lì